andiamo a prendere il caffè andiamo a prendere il caffè si è fresco si sei migliorato si anche in discesa perché sono ricoglianito da te dentro però no no sei costante nella velocità grazie 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 qui è come località eh Bardollo del Soprano ah si è? no no non ci leggo un cazzo quella è la bruciata